Prima di tutto ringrazio Russiabit che ha prodotto questo documento attraverso Insanity, questo documento sul sito della NASA, una riferenza di questa pubblicazione dell'agosto 1988. Derivazione e definizione di modello lineare di aereo. Diamo un'occhiata a pagina 6 su questo PDF sommario. Questo documento è un rapporto sulla derivazione e definizione di un modello lineare d'aereo, di un aereo rigido con una massa costante che vola sopra una terra piatta e non rotante. Ed ora osserviamo a pagina 35 questa pubblicazione della NASA. Sotto questo trovate il link di questo file in PDF nella descrizione dello stesso, anche qui in italiano. Afferma Ames Research Center, Edward, California, 8 gennaio 1987. L'osservazione conclusiva. Questo rapporto arriva a definire che un insieme di matrici di sistemia linearizzato per un aereo rigido con una massa costante che vola in un'atmosfera stazionaria sopra una terra piatta e non rotante. Ancora come hanno potuto fare questo? Non si sa. Non capisco cosa hanno pensato. Perché hanno pubblicato questo? Forse l'hanno fatto senza controllarne il contenuto. Comunque l'abbiamo trovato e questo lo troviamo interessante. Fatemi sapere che ne pensate. Inventa una grande bugia. Falla semplice. Continua a raccontarla e vedrai che alla fine ci crederanno.